rise from your grave se fa attacco di fuoco scappo se no dai prima che si gira dai come on prima che si gira eccolo che si gira bello bella bella questa è stata una bella schivata al di là di quando morirò guarda la porca di quella troia avevo fatto una schivata calamorosa bah rise from your grave era il potere di grey school che bel nome grey all allora apriamoci un po' le marion dove sono le marion proviamo loro le facessero male vai marion insomma l'ha fatta a fia il mio povero torrent ma che si è in faccia questa dai però eh dai cazzo ma perché perché non casta ma perché non casta ma porco due ma c'ho le magie piene ho capito perché non casta stannati stannati stanna più via 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 dal fuoco ecco si è stannato laggiù non capito perché non lancia le magie comunque inspiegabile vieni qua guarda che roba drago volante grey bene ora qui non romperà più le palle benissimo facciamo un level up bella la sensazione di aver liberato starea guarda una cosa incredibile ancora intelligenza non mi si alzano più le statistiche di intelligenza non mi si alzano più vai col tempra dai va benissimo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti